Il bugiardo no, perché alla fine quando abbiamo vinte tante partite, quando contava se andava via noi, bisogna fare un bravo a loro perché tutte le volte che siamo arrivati vicini hanno giocato meglio di noi, tutte le volte che hanno staccato, ce ne sono state, gli attaccanti hanno risolto anche situazioni difficili, forse noi non bravissimi a muro, però loro hanno fatto una buona partita. Sì, parli di sfortuna, sono d'accordo, però la sfortuna è relativa perché l'abbiamo giocata non benissimo, sono capitati due o tre palloni e non siamo riusciti a alzare in maniera da poter avere un po' più di un colpo e lì poi ha fatto la differenza, gli attaccanti due o tre volte impiccati nelle palle che contavano, un attimino dispiace perché con un pochino di più di fortuna si poteva vincere, ma solo con la fortuna penso. Diciamo che la ricezione ce l'aspettavo, io l'ho detto all'inizio dei ragazzi, loro erano in fiducia e si vedeva, battevano, centravano a bersaglio, una battuta decisa, efficace, con pochissimi errori e gli ho detto, quando le partite vanno bene è facile da linea di 9 metri essere aggressivi, speravo riuscissimo a girare qualcosa per fargli mollare la battuta, invece loro sono stati bravi tutta la partita a tenerla a un livello alto e giusto così. Ora è durissima, è durissima, però per com'era il campionato è giusto così, spero di giocarla, che si perda, che si vinca al meglio delle nostre possibilità, poi se siamo a commentare il risultato uguale vuol dire bravi loro.